E parliamo ancora di lavoro, di nuove opportunità per i giovani ospiti delle case famiglia che presto potranno partecipare a corsi di formazione professionale organizzati dalla regione. Sentiamo Elisabetta Zeni. Non si sa ancora quando, ma di certo l'accordo ci sarà dopo l'impegno preso dall'assessore regionale al lavoro di Giniamura di estendere i cosiddetti tirocini atipici ai minori in difficoltà ospitati nelle case famiglia o in affidamento. Un provvedimento che rappresenterà una piccola rivoluzione visto che in Sardegna attualmente esiste una norma regionale che l'Italia ci invidia e che agevola l'inclusione sociale dei ragazzi ma non il loro percorso di apprendistato per raggiungere l'indipendenza economica. Una strada oggi percorribile soltanto per quei giovani che devono scontare una pena detentiva o una misura alternativa. Un pezzettino importante di un puzzle che stiamo cercando di costruire insieme ai ragazzi di Agevolando, insieme ai ragazzi di tutte le comunità di Speranzia. Si tratta di avere un accesso al mondo del lavoro facilitato che è una componente essenziale verso l'autonomia e che messa insieme con progetti di inclusione che vengano finanziati, comuni che diano seguito e magari tribunali più attenti che riescono anche a fare la loro parte di controllo potrebbero realmente significare un futuro diverso per i nostri ragazzi.